Ciao a tutti, bentrovati. Lo avete visto? In questi giorni dagli ambienti europeisti, sui giornali, sulle televisioni, ma anche sui social, c'è un'area di sollievo. Stanno tirando un sospiro di sollievo. Dicono che, tutto sommato, l'ondata sovranista non c'è stata e che quindi il processo di unificazione europea può continuare ad andare avanti, che l'Europa e le sue istituzioni sono salve e che anzi si debba ripartire con più slancio di prima. Però lo sapete, gli europeisti sono disposti a credere qualunque assurdità, anche che il PD abbia vinto o che senza l'euro noi saremmo già in guerra con la Svezia. Vediamo di capire perché invece il risultato delle elezioni europee potrebbe essere la campana morto per l'unione che noi conosciamo. Da un punto di vista numerico, è vero, il numero dei seggi di quelle forze che si dichiarano esplicitamente sovraniste non è certo in grado di garantire una maggioranza. Ma io ritengo che Salvini, che in un certo senso è il capo a livello europeo di questo movimento, non abbia avuto mai nessun'intenzione di raggiungere una maggioranza all'Europarlamento. in primo luogo perché era obiettivamente impossibile, in secondo luogo perché probabilmente non è funzionale ai suoi veri obiettivi. L'obiettivo di Salvini e degli altri euroscettici potrebbe non essere quello di governare l'Unione Europea, ma di paralizzarla. Seguitemi un momento in questo ragionamento perché è abbastanza complesso. Nel 2012 io ho scritto i due articoli che si intitolavano l'incubo dell'ingovernabilità in Italia e l'incubo dell'ingovernabilità in Europa. In questi articoli sostenevo che c'era stata nei decenni precedenti una finta alternanza tra un centrodestra e un centrosinistra sostanzialmente identici su tutto e che l'avvento di nuove forze politiche nello scenario italiano e anche nello scenario europeo avrebbe rotto questa finta alternanza consentendo un'alternanza vera, reale. Cioè consentendo il ritorno della politica che è fondamentalmente la scelta tra modelli diversi e non tra soggetti diversi che applichino lo stesso modello. Poco tempo dopo il Movimento 5 Stelle prese il 25%. Ricorderete che Napolitano, che era il garante del vecchio sistema, intervistato su questo tema, in una battuta disse «Io non vedo nessun boom del Movimento 5 Stelle, l'unico boom che ricordo è il boom economico degli anni 60». In effetti il Movimento 5 Stelle aveva preso il 25%, ma il restante 75% era saldamente nelle mani dei vecchi partiti, dei partiti tradizionali. Però questo 25% costrinse gli altri partiti a un'alleanza, smascherandone fondamentalmente l'identità e quindi aprendo le porte a un cambiamento reale. Pochi anni dopo la somma di quel centrodestra e quel centrosinistra, che nel 2013 rappresentavano il 75% dell'elettorato, oggi è ridotto a circa nemmeno il 30%, al 28%, al 29%. In Europa ci sono diverse forze che rientrano all'interno di questi scatoloni che sono i partiti europei, i gruppi europei, ma che sono in realtà diversissimi. Per poter assicurare un governo, una maggioranza al Parlamento europeo, quindi visto il successo dei movimenti sovranisti, sarà necessario mettere insieme i socialisti, i popolari, l'alde, cioè i liberali e i verdi. Numericamente è facile, ma il problema politico è enorme, perché tutte queste forze devono rispondere poi ai propri elettorati in patria. E la presenza di movimenti sovranisti e di partiti alternativi in ognuno degli stati rende tutto questo molto più difficile. Prendiamo un qualunque elemento, l'immigrazione. Sull'immigrazione non può esserci un asse che metta d'accordo i popolari, al cui interno siedono partiti che sono nettamente e chiaramente di destra. Pensate all'Austria. In Austria c'è un primo ministro che è del Partito Popolare Europeo, il quale ha schierato i carri armati sul confine con l'Italia per evitare il passaggio dei migranti. Contemporaneamente quindi in questo governo ci dovrebbero essere i popolari austriaci o per esempio i popolari ungheresi del cosiddetto dittatore Orban, insieme alla sinistra estrema, passando per i verdi e per i liberali. È evidente che non c'è un solo elemento su cui questa ammucchiata selvaggia potrà dare un orientamento coerente ed effettivo all'Europarlamento. Di conseguenza, molto più che governarla, è probabile che la strategia dei sovranisti sia quella di paralizzare l'Europa mostrando a tutti i cittadini l'inefficacia, l'inefficienza e fondamentalmente la mancanza di prospettiva che questa istituzione ha. C'è poi un altro piano, un altro elemento che è quello che conta, quello nazionale, perché un'obiezione che in tanti mi fate è sì, ma il Parlamento europeo non conta niente, conta la Commissione, certamente la Commissione viene nominata dagli stati, dai singoli stati, ma anche qui la contraddizione è evidentissima perché la Commissione sarà espressione di una serie di stati che hanno governi opposti e nei quali c'è una sempre crescente minaccia dei partiti antisistema che gli impedisce di fare ciò che hanno fatto senza doversi preoccupare negli anni passati, nei decenni passati. Che cosa voglio dire? La Commissione europea è quella che ha imposto costantemente i vincoli di bilancio dei trattati di Bruxelles e l'austerità. Ovviamente questo si può fare quando a livello nazionale, più che a livello del Parlamento europeo, le varie nazioni che contano sono concordi in questo senso. Sappiamo bene che l'Italia è uscita dal club di quanti sostengono questo tipo di misure, ma anche in un paese come la Francia, Macron non sarà più in grado di adeguarsi a questo modello. Perché la Le Pen ha vinto. È vero che lui in ogni caso continua ad essere purtroppo il premier francese, ma è altrettanto vero che senza fare una politica che contraddica profondamente i dettami di Bruxelles che sono recessivi per natura. Dovendo quindi venire incontro alle richieste sempre più pressanti del popolo francese, pensate ai gilet gialli, pensate al successo della Le Pen, è inevitabile che chieda un allargamento dei cordoni della borsa. Ed è chiaro che non può dire esplicitamente sì per la Francia, no per l'Italia e no per altri paesi. Stesso discorso vale per esempio per altri governi, in particolare del Nord Europa, i quali si trovano viceversa sotto la pressione di movimenti antisistemi e sovranisti che hanno l'esigenza opposta. Cioè in quel caso dicono ai primi ministri no, non concedere nulla, perché se noi non vogliamo pagare per le cicale del Sud Europa. È falso ovviamente, ma l'importante è come viene percepita la realtà in quei paesi. Di conseguenza l'incompatibilità tanto tra le forze che dovranno comporre il governo dell'Europarlamento quanto tra le politiche dei singoli Stati che andranno a comporre la Commissione europea, credo si dimostrerà nella sua evidenza e farà capire che affidare a un organismo antidemocratico e trasnazionale come l'Unione Europea le sorti dei vari paesi è qualcosa di assurdo e criminale. Penso quindi che queste elezioni non segneranno uno scampato pericolo per l'integrazione europea. Io credo che sia una situazione molto simile a quella del Titanic. Per chi ha visto il film con DiCaprio, nel momento in cui il transatlantico urta l'iceberg, non affonda sull'immediato, si pensa che il pericolo sia scampato, che l'hanno sfiorato, ma che comunque sono salvi e la nave può continuare la sua navigazione. Però nella chiglia c'è una faglia, scusate il gioco di parole. Quindi l'acqua sta entrando. È la stessa cosa che succede nell'Unione Europea. In quel caso, perché la nave affondi, era questione di tempo. In questo caso, prima che si prenda atto che non è possibile governare vari Stati senza un processo democratico e senza istituzioni democratiche, senza una vera Unione, ma affidandosi a una serie di strutture cervellotiche, complesse, prive di rappresentanza, è una follia, perché ogni popolo sceglierà nel suo interesse e ci si troverà in una situazione in cui diventa impossibile decidere alcunché. Dobbiamo solamente aspettare, come dicono i cinesi, per vedere il cadavere del nemico passare sul fiume.